Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokemon Fire Ash. Io sono Gratial Sphere e in questa parte affronteremo gli altri rivali di Ash, quelli che non sono i rivali principali come Gary, Paul, Howe, Iridio eccetera eccetera, ma quelli un po' più secondari. Iniziamo quindi a cercare qui a Verminion City, quindi da Ranciopoli, il rivale che Ash sfidò alla Lega Pokemon, ovvero Ricci. Vediamo se lo troviamo, dovrebbe essere qui da qualche parte. Sei tu? No, non sei tu. Lasciami andare, grazie. Vediamo se qui magari. Dovrebbe essere forse questo allora. Sei tu Ricci? Ok, sì, è lui. Ha detto che vuole una battaglia divertente e leale. Ma nel campo zippo. Noi abbiamo Miracross, non la scelta migliore, ma va bene comunque con Earthquake. Ecco fatto. Poi Rose. Chi sarà Rose? Rose tecnicamente dovrebbe essere Taillow, cognomando Greninja. Ice Beam. Ecco fatto. Poi vediamo un po' chi manda. Intanto Greninja si evolve. Sparky, quindi Pikachu. Contro Pikachu mando Donphan. E andiamo di Earthquake. Poi... Cruise. Cruise dovrebbe essere Pupitar, quindi ho mando Sceptile. Leaf Blade. Ottimo. Poi Happy. Allora, Happy dovrebbe essere Butterfree, se non sbaglio. Quindi mandiamo Greninja. E andiamo di Ice Beam. Perfetto, Ricci è stato sconfitto. Che grande battaglia, fantastico. Il prossimo rivale è alla Lega Pokémon, quindi andiamo qui all'Indico Plateau. E si tratta di Harrison. Quindi cerchiamolo qui dentro. Sei tu? Sì. Ok. Sfidiamo Harrison di nuovo. Che manda in campo? Che è Creon. Il nostro Heracross gli farà parecchio male con Zuffa. Poi Plaziche. Cambia il Pokémon contro Plaziche. Ne mandiamo Greninja. Allora, Surf. E Greninja, sì. Mega Evolve. Più o meno. Una sorta di Mega Evoluzione. Ho un Doom. Lasciamo Greninja. Grazie. Grazie. Poi Sneasel. Cambiamo di nuovo e mandiamo invece Heracross. Body Close Combat. Ed infine Hypno contro Hypno. Lascerei Heracross. Lascerei Heracross fare una bella Mega Evoluzione del Trot Shop. Anzi, di Pin Miss è il meglio ancora. Vediamo in quanti Tick gli uccide. Cioè, in un Tick. Ah beh, colpo critico, ok. Però in un Tick abbiamo ucciso Hypno. Va bene. Quindi, infine Steenix. Lasciamo Heracross. E andiamo di Close Combat. È rimasto con un HP. Ah no, ok. Stardi. Perfetto. E poi un bel Hard Quake. Perfetto. Ho battuto anche a Horizon. Quindi, possiamo andare alla prossima nostra destinazione. Ovvero, andare a Pallet Town. Prendere il teletrasporto ed andare ad OAN. Direttamente ad OAN. Qua. E da OAN possiamo andare, cioè, e ad OAN, possiamo andare a Verdant Hoof City. Vediamo se la becco. Qual è? Allora, For Free. E, Lava Ridge, Fallabor, Verdant Hoof. Eccola qua. Se la Tizza, è vero, questa non ci fa entrare. Però ci cura comunque Pokémon. Allora. Vediamo un po' dove si trova il nostro altro rivale. Potrebbe essere questo? Sì, esatto. Questo è Morrison. Che va nel campo Metang. Allora. Close Combat. Ah, peccato. Meteor Mash non ci ha fatto molto. Andiamo ancora di... Anzi, andiamo di Pin Missile. Ah, è vero. Ah, no. Ok, non è che non ha effetto. Non ha proprio mancato. Ok. Perfetto. Poi Ligar. Greninja. Tutto tuo. Andiamo di Surf. Perfetto. Poi Swampert. Contro Swampert invece mandiamo Sceptile. E Leaf Blade. Perfetto. Ed infine Growlit. Allora. Oddio, infine. No, ne mancano ancora un po' di Pokémon. Però contro Growlit. E Earthquake. Poi Steelix. Lasciamo Donphan. E andiamo di Earthquake di nuovo. Fossa. Ok. Ti prenderai un bel Earthquake in faccia. Perfetto. Livello 66 per Donphan. E infine Girafarig. Contro Girafarig invece Manderei. Manderei. Greninja. Anzi, Eraqus. Trash Chop. Abbiamo distrutto anche il buon Morison. Il prossimo invece è a Mobile City. Sempre a Doen. Quindi curiamoci un attimo qui Pokémon. E andiamo a cercare Mobile City. E' qui. Perfetto. Proprio qui vicino. E sfidiamo Tyzone. Perfetto. Vediamo un po' chi manda. Meo. Bene. Un inizio molto facile per il nostro Heracross. Perfetto. Poi Metagross. Contro Metagross invece userei Donphan. E andiamo di Earthquake. Ui, per raggio. Ci ha fatto così male perché agisce sulla nostra difesa speciale. Che non è altissima. Sceptile. Contro Sceptile invece Andrei a mia volta di Sceptile. E Andrei di Mega Evoluzione. Accessor. Uh, non l'avevo quasi one-shotato. Poi Hariyama. Contro Hariyama. Tipo Lotta. Andrei di Graninja. E Extrasenso. Di nuovo Extrasenso. Perfetto. Graninja. Diventa Formash. Poi Shiftry. Contro Shiftry. Io userei Heracross ancora. Close Combat. Infine Donphan. Contro Donphan io rimando Sceptile. E contro Donphan andrò di Energy Ball. Agendo sulla sua difesa speciale. E tirandolo giù proprio per quello. Perfetto. Ora. Dobbiamo andare sempre. No. Dobbiamo andare a Sinnoh questa volta. Tocca andare a Sinnoh. Quindi curiamoci qui. Pokémon. Allora volo. e andiamo qui per teletrasportarci. Ok. Andiamo a Sinnoh. E a Sinnoh dobbiamo andare a Floromatown. Quindi vediamo un po' se riusciamo a beccarla subito. Floromatown. Eccola qua. Ok. Allora qui dobbiamo cercare il buon Nando che dovrebbe essere questo qui credo e sfidarlo. Esatto sono dovuto a cercarlo per una battaglia. Vai 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 sfidiamo il gentiluomo Nando. Contro Roserade andiamo di PMS Fortissimo Erafrosse. Poi Armaldo. Allora Armaldo userei Greninja. E andiamo di Surf. Bello vuoi shottare gli Armaldo eh. Molto bello. Poi Cricketune contro Cricketune invece andrei di beh lascerei in campo Greninja in realtà. E andrei ancora di Surf. Poi lo punni o lo panni rimandiamo Erafrosse. E andiamo di Close Combat. Ah si protegge. Vai Close Combat di nuovo. Sanflora contro Sanflora lasciamo Erafrosse. e andiamo di Pin Missile dopo esserci Mega Volute. Perfetto infine Altaria contro Altaria userò Greninja e andrò di Geloraggio Perfetto Ecco fatto E a questo punto Ups scusate perché non sto andando correttamente ora si perfetto Allora abbiamo fatto questo ora possiamo andare a curarci qui curarci qua e andare a Sun Shore City Eccoci qui dove potremo trovare Tobias quindi cerchiamolo Vediamo un po' Questa è una città molto grande quindi vediamo se si riesce a trovare non penso sia qui Forse è quello lì sotto dovrebbe essere quello lì sotto con i capelli blu Vediamo se tu sì ecco l'ho fatto Tobias rimanda in campo Darkrai noi andiamo di Mega Evoluzione e Pin Missile ok comunque più veloce Darkrai però ci vendichiamo un po' ecco fatto buon shotato Darkrai con Missile Spillo poi Latios contro Latios invece lascerei Heracross e andrei di Cross Combat vabbè fagli un po' di danno che se poi morirai non è un problema hai fatto il tuo e contro Latios andrò di Charizard Flamethrower perfetto ok a questo punto abbiamo completato circa metà di questi incontri diciamo un po' più secondari io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti da Gratiosphere è tutto al prossimo video grazie a tutti